Sì, il Lecce sicuramente nel primo tempo ha giocato una grande partita. Di Michele è stato capace di mettere in difficoltà sin dai primi minuti la difesa rosso-blu. Purtroppo, come accade molte volte, il Lecce non è in grado di gestire il risultato e come abbiamo visto nel secondo tempo ha subito poi le due reti che hanno fatto soccombere i giallorossi per il risultato di 4-2. Un risultato forse troppo pesante ma che dimostra l'incapacità del gruppo di gestire il risultato nei momenti difficili. Domani c'è il Chievo. A tua parere è la partita da ultima spiaggia? No, assolutamente no, anche perché nel resto del campionato ci sono molti sconti diretti. Il Brescia, ad esempio, ha un calendario improponibile che nessuno mai vorrebbe affrontare con due sconti diretti nelle ultime quattro giornate. Quindi penso che il destino del discorso Salvezza sia molto nelle mani della squadra bianca-azzura Lombarda. Molto probabilmente sarà una partita molto importante perché il Chievo vorrà chiudere il discorso Salvezza. Magari con un pareggio o addirittura, come credo, cercheranno la vittoria. Mentre per quanto riguarda il Lecce mi auspico che la squadra giallorossa vada lì in cerca dei tre punti. E come dice sempre il tecnico De Canio, quando la posta in gioco è alta, la squadra non ha mai fallito gli appuntamenti. Basti pensare ad esempio alle partite contro la Juve e contro l'Udinese in casa. Ieri il Presidente ha detto che servono sette punti per salvarsi. Sei d'accordo con lui? Beh, la matematica non è un'opinione. Il Lecce ne ha 35, arrivi a 42 con i sette che auspica il Presidente. Quindi mi sembra di dire che abbia fatto la scoperta dell'acqua calda, sinceramente. Credo che dipende molto, come ho detto in precedenza, dagli scontri diretti. Secondo me anche 40 punti possono bastare. Ricordo una statistica che negli ultimi dieci anni mai una squadra che ha fatto 40 punti è retrocessa. Non vorrei mai che sia quest'anno il primo. Te la senti di azzardare un pronostico per la partita di domani? Non sia la partita di domani. Alla SNAI la quoterebbero come una tripla, però giocherei un X2 per stare tranquillo. Però sognare non costa nulla, magari un bel 2-0 del Lecce, siamo tutti più tranquilli.